Siamo gli amici che hanno voluto parlare del mio lavoro a questa tavola e tanti amici che si sono in sala e che hanno dedicato parte del loro tempo ad ascoltare questi discorsi. Sono molto grato a Pietro che ha voluto citare quelle poche parole che io ho dedicato a Nicola Bagnano, sia perché quel ricordo per me è importante che sia un omaggio, non ho mai fatto tanti omaggi a Bagnano, forse non l'ho mai fatto, ti espliciti, ti iscrivi, adesso non c'è nessun sospetto che sia un omaggio più che sincero, passato tanto tempo, quindi ho fatto molto bene. Ma nelle parole, nelle righe che Pietro Rossi ha letto c'è un piccolo accenno che contiene quello che era il mio titolo ideale del libro e che è stato sempre il mio titolo di lavoro del libro. Io avrei voluto chiamare questo libro Storie di coscienza. Capisco che dal punto di vista editoriale poteva dare un'idea sbagliata, gli editori hanno un loro problema di scegliere i titoli. Certamente è una delle cose importanti quando si sceglie il titolo, non è che tanto che sia sincero, ma che non sia troppo identico ad anche i titoli che ci sono, scelte la dica e io dal punto di vista mi pare un po' meno fedele. Un po' meno fedele è il sottotitolo Storie della coscienza e dei suoi usi, che dà un'idea di completenza che io certamente non avevo in mente di perseguire quando scrivevo questo libro. Poi quando si è vecchi si hanno i ricordi lontani, si ricordano le cose che si facevano da ciò e non solo c'erano le passeggiate che citava l'amico Pietro, c'era un libro che mi avevano messo per le macchine, si faceva ciò, si tratta di libri esemplari, che era stato tradotto da poco in italiano, ed era un libro di Bruno Snell, che si chiamava Die Anteclos des Geistes, La scoperta dello spirito, che era un modello di storiografia, soprattutto di storiografia filosofica. Bisognava trovare come un concetto si fosse a poco a poco sviluppato nella storia, fosse venuto su quanto di buono accende in quel concetto che nella piena contemporaneità si era del tutto svelato. Ecco, a me non è mai piaciuto una storiografia così, una storiografia che è sempre un po' providenzialistica. Ho sempre preferito, quando sono stato capace, di cercare una storiografia che passa attraverso incidenti e soprattutto attraverso molte cose casuali. Da questo punto di vista la scintilla di Cheno è un titolo fedele, perché la scintilla di Cheno nasce da un incidente. La cultura europea, medievale, un taglio antico e medievale, disponeva di un'idea di anima, invitata dai filosofi antichi. E bene o male, l'anima era dei disegni trai. Ma dalla Bibbia veniva invece la visione di Ezechiele, ed erano quattro figuri. Ecco, come si fa a mettere insieme tre parti dell'anima e le quattro figure di Ezechiele. Allora si trova che c'è una parte che non è né la sensazione, né le emozioni, né la ragione, è una scintilla. Quella scintilla è quella che ha anche Cheno. Da questo incidente, che è un incidente di trasmissione di metafora, nasce anche un incidente linguistico, perché questa scintilla di Cheno finisce attraverso gli errori di copisti, assonanze di parole, eccetera, di essere chiamata con una parola sinderes che non esisteva. Che non esisteva, ma non solo non esisteva, nel senso, da spesso non esiste, la inventiamo, questo facciamo continuamente. No, non esisteva, ma si credeva che esistesse, perché si dicevano male i codici, si capivano male le cose, eccetera. E questa sinderesi, nata da fusione di una teoria dell'anima con le visioni di un profeta, da errori linguisti, eccetera, io l'avevo ancora sentita usata da mia nonna, che usava dire ha perso la sinderesi. Ecco, questa storia di casualità, di modi di vivere, delle cose che da genere era quella che cercava, insomma, in qualche modo di ricostruire. E ho trovato delle cose che, secondo me, mi sono piaciute, erano interessate. Ricordava, prima, Piazza, i due rusi, e che poi Pietro Rossi ha giustamente ripreso i due rusi nel termine cosciente. Bene, i due rusi si sacarono, dal punto di vista delle teorie filosofiche, e poi verso la fine del seicento. Questo è il recato, un filosofo importante sui tempi, ma poi il ricordo viene un po' smarrito, scrive di un libro, un benissimo, effettivamente difficili da leggere. Ebbene, questo ottimosofica, certamente, dice no, altro è la consapevolezza, altro, la coscienza, nel senso morale, cioè quella che ci rimorde, che contiene degli scrupoli, nella quale mettiamo le cose che crediamo che gli altri non sappiano che ci sono. Ecco, questo è quello. Ora, questa divisione, in due, aveva una vecchia origine. Certo, anche i filosofi greci sapevano che c'è una consapevolezza di noi stessi, cioè quando vediamo il colore, diciamo, e poi sappiamo anche di vedere il colore. Ma per i filosofi greci questa conoscenza è una conoscenza aurorale, in fondo un po' parassicata, cioè noi non potremmo sapere niente di noi stessi se non vedessimo qualcosa fuori di noi. Anzi, diceva la storia, noi conosciamo davvero noi stessi quando? Bene, fisicamente è quando ci guardiamo in uno specchio. Dal punto di vista più generale, quando vediamo un amico, un liceo, un amicizio, ma in una vita non vediamo le riflessioni stessi. Chi è l'unico che non ha amici e che vede solo se stessi? Il padre interno. Cioè lui non sia il motore immobile. Perché se lui vedesse degli altri, conoscesse degli altri, e conoscerebbe qualcosa che è inferiore a lui, sarebbe infelice, scontente, eccetera. Ecco, questa idea della solitudine del motore immobile, che diventa poi, a poco a poco, il modello di quello che noi crediamo di sapere di noi stessi e che è cartesico, che mette alla base della nostra cultura e che capo e separa dalla coscienza morale. La coscienza morale allora diventa, e questa è la cosa che trovavo interessante, diventa la sede delle credenze, non tanto delle conoscenze della coscienza, ma la sede delle nostre credenze. E lì, insomma, c'è insomma questa forma di, a sua volta, di ambientale. Io mi sono sempre chiesto. Come mai? A Filadelfa, gente che non vuole fare, guarda, i quali che non vogliono prendere le armi, si richiamano alla coscienza. Perché usare il termine coscienza? Per una pretesa di questo genere. Eh, non bisogna prendere le coscienze. Cioè, le apole dite Gesù, la fede cristiana, ma perché appellarsi alla coscienza? Beh, certo, loro avevano, tra loro e tu, i loro ascendenti, avevano un teo, un teo, un teo, un teo, un teo, ma avevano soprattutto San Paolo. Ma San Paolo, quando è che usi il termine di coscienza? Beh, in due casi molto accidentali. Uno perché a Corinto trova la concorrenza di altri predicatori, che sono più dotti di lui, che probabilmente sono delle lievi di Filone, che hanno il dono delle lingue che lui non ha, eccetera. E allora diceva, bene, quelle avranno tante cose, ma io ho la coscienza della quale Dio vede. E aveva dietro, che cosa? Non filosofi. Aveva dietro i tragici pregi, la cultura greca diffusa. Mi sono divertito a vedere che, al fine dell'antichità, noi non troviamo quasi più un filosofo pagano in termini di coscienza, lo troviamo in Apuleio, che attribuisce la coscienza a un capo più grande, il quale dice, ma se io faccio questa cosa, poi mi rimorda la coscienza. Cioè, ai filosofi non rimordava tanto. Le capi briganti, sì. Ecco, questa collocazione casuale e inaspettabile della coscienza è quella che permette di costruire queste cose. L'altra occasione che da Assa e Paolo, che da Assa e Paolo usano in termini di coscienza, è che c'erano degli ebrei convertiti che però non volevano urlare il loro tabù alimentare. E qui la coscienza non è senso della rettitudine in termini, è indulgenza. Bisogna essere indulgenti con le persone che sono legate ai loro. Ecco, questa idea, giustamente diceva Piatta, io non ando al mio mestiere, credo che chi come me ha una modesta preparazione filosofica, al massimo ha degli strumenti per raccontare, pochissimi strumenti per esercitare il raciocidio. Ecco, e allora, raccontando viene fuori la spaccettatura di questo concetto, la molteplicità dei suoi uniti. E si capisce, e si capiscono certi usi collettivi che vengono fatti della coscienza. Prima i miei amici storici citavano gli usi della coscienza, per esempio, nelle guerre di religione seicentesca. Bene, lì c'è dietro questi usi tradizionali paurini, rielaborati da Lutero e da Calvino. E la coscienza viene invocata perché deve essere rispettata. Ma c'è sempre la paura che la coscienza faccia di guai. La coscienza tumba la pace pubblica. Quindi, il rispetto della coscienza, ma nei limiti della pace pubblica. E l'altra cosa che mi ha molto, che mi era molto colpito, è che se uno legge più o meno le storie delle guerre di religione seicentesca, capisce che i settari protestanti, che sono spesso come raccetti, dicono, noi abbiamo coscienze delità. Paolo diceva coscienze deboli quando parlava di quelli che hanno intorno. Poi, comunque, eufemisticamente, i protestanti preferiscono dire coscienze delicate di se stessi. E dice, noi abbiamo coscienze delicate e vogliamo essere rispettati, non abbiamo altra forza che chiedere rispetto. Ma Calvi primo, quando è in prigione e sta per essere decapitate, dice, ma io ho coscienza delicata. Se ero un re, ho una coscienza delicata, dovete rispettare la mia, perché io rispetto la vostra, ma voi dovete rispettare la mia. E la coscienza, direi, ha grandi responsabilità, che non esimono, però, dalla sua delicadenza. Ecco, queste amiguità della coscienza che sono presenti nei movimenti costituzionali seicenteschi e che sono presenti nei coloni americani sono sempre legate all'idea che, però, se uno si rimane alla coscienza, si rischia di turbare la pace pubblica. Al punto tale che, con benedissimi, i costituenti americani non parleranno più di coscienza. Madison dirà, ma la coscienza è qualcosa di superiore alle stesse leggi di natura, di superiore ai nostri diritti. Un modo per esorcizzare queste cose che faceva un poco. E poi, perdone, ha detto bene, io, grande simpatia per Canto. Mi hanno levato a me Canto e, in un certo momento, è diventato grande. Uno fa tanti, tanti stupinazzi, ma, insomma, non mi ha dato. Mi sembra uno scolastico. Ma, soprattutto, da Canto e in Germania, la coscienza viene liberata da questa cosa individuale, da questo aspetto individuale e soggettivo. E, anche lì, c'è un incidente in fondo. Se uno pensa che cosa accade in Francia quando, a un certo momento, nella russa, nelle francesi, la rivendicazione dei diritti si salda con la patria interiore. Ecco, questo è uno scolastico molto fondamentale. In Germania sarà caso molto sul serio. E si dirà, ma, state attenti, che voi parlate di coscienza degli individui, ma c'è una coscienza collettiva, che viene forgiata sul modello di quella coscienza individuale, che, invece, partiva da una serie di incontri casuali, di modi casuali e di risorse di circostanze particolari. L'altra cosa che, appunto, mi ha colpito, ma come mai? A un certo momento, in medicina, il ricorso alla coscienza diventa così importante. Ora, la prima comparsa dell'obiezione di coscienza, in termini di interaccio, il ricorso alla coscienza viene quando, in Inghilterra, c'è la rivolta contro la vaccinazione organica. Certamente c'è il modello dell'obiezione di coscienza in Italia, che ha una storia importante, anche una storia di cività importante. Teniamo conto che la massima coerbazione e il massimo riconoscimento dell'obiezione di coscienza avviene in Inghilterra quando Inghilterra sta per il, all'inizio della seconda vera. Eppure, c'è il suo primo, certo, non era vita personale, ma c'è il suo primo, dice, bisogna riconoscere l'obiezione di coscienza. Bene, come mai questo trasferimento dell'obiezione di coscienza dal campo immunitario a campo sanitario? Certo, c'è questo precedente della obiezione di coscienza alla vaccinazione obbligatoria. Ma poi c'è l'altro aspetto che è estremamente interessante. Quando la medicina incomincia ad affermarsi come scienza, soprattutto, la scienza che per il bene dell'umanità ha il diritto di disporre di cittadini. Ci sono sperimentatori francesi e tedeschi che dicono, ma come? Ma noi andiamo i nostri giovani a morire sul campo di battaglia per il bene della società. Non abbiamo diritto di far morire sul campo di battaglia della medicina chi vuoi? Carcerati, prostitute, gente che sarebbe del tutto inutile alla società. Ecco, noi vediamo questo diritto perché lo facciamo per il bene dell'umanità. Ecco, e anche qui la coscienza entra come uno spazio che era rimasto accanto alla scienza. C'era nata questa cosa soprattutto nella scozia settecentesca. E' nella scozia del settecento che cominciano a nascere i primi trattati di etica medica e nei quali si dice, va bene, c'è la scienza ma sono molto impilissimi questi medici. E' stato attento, la scienza suggerisce delle ipotesi spesso arbitrarie, pericolose, bisogna essere più baconiani che cartesiani, andare cauti, non accettare tutto, eccetera. Ebbene, lì, su questo terreno, incomincia ad aprirsi uno spazio di qualcosa che vale accanto alla scienza. Questo qualcosa che vale accanto alla scienza prenderà il nome di coscienza, soprattutto in Francia. quando la grande, c'è la caccia da Sipiride, che tra l'altro qui a Torino ha avuto degli episodi assolutamente impressionanti, con il caso Sperino, eccetera, ma in Francia ha portato a un'escussione estremamente interessata su un naturo del dietro sperimentale, ma in Francia si comincia a dire, fai questa semplice obiettivo, ma voi, che è infettato delle persone, senza essere sicuri che queste persone riescano a superare il bar che è infligente, non avevano un rimorso di coscienza. Il vecchio idea della coscienza veniva dai grandi greci, ma che era comune in realtà, che aveva perfino il capo glicano di Apulelo, bene, questi diventano degli strumenti per arginare le pretese della scienza. E ad un certo momento acquisteranno un volo, queste voci della coscienza. Lo acquisteranno negli Stati Uniti quando saranno le donne e i giudici che cominceranno a dire, no, su quel che fanno i medici, noi abbiamo il diritto di far valere le nostre pretese, dicono le donne, e i giudici dicono, noi abbiamo il diritto di giudicare. Ed è lì che nascono i primi diritti che poi l'obbioetico farà suoi, eccetera, ma sono i diritti di capo, i diritti di introduzione della gravidanza, il diritto di introduzione della vita. Si metterà sotto questa parola coscienza quello che non sta nella scienza. Poi però, siccome, al contrario di quello che mi avevano insegnato a Giorgio, ci sono dei concetti fondamentali che questi crescono, pone la storia, poi si affermano, sono, lo sapete, edificanti dicevano problemi eterni, lo dottrino eterno, gli altri dicevano però conquista l'umanità, poi anche questi si corrompono. E, ad un certo momento, l'obiezione di coscienza militare diventerà lo strumento di massa per evadere l'obbligo militare. Ci sono, sono guardi con lei, ci sono delle cose molto interessanti e un po' patente, perché ai primi obiettori si chiede, ma voi non dovete avere il porto d'armi, nemmeno che è la caccia, ti ammettete un obiettore, oppure dovete aver dimostrato questa convinzione di già prima, ma si sa, e ci sono sempre due testimoni che dicono, ma fin da quando aveva un vino, lui ce l'aveva con la guerra, e diceva, non prenderò mai un arco in mano. A poco a poco questi strumenti perdono il significato, si consumano, perché i concetti si consumano, spesso quindi le cose, le cose durano, si consumano soprattutto questi concetti labili e, come diceva, piacca indefinito o difficilmente definiti. E in medicina le cose addirittura si capovolgeranno. Saranno non più le donne che si chiamano alla coscienza dove stanno il loro diritto, i giudici che dicono noi giudichiamo al di là della scena. Saranno i medici che diranno noi il nome di quella coscienza che pone i limiti alla scena, ci ritroviamo di fare certe prestazioni. E la coscienza che ha questa capacità di applicarsi un po' a tutto, una specie di ventosa che si applica un po' a tutto, si dirà, ma gli ospedali hanno la coscienza, il farmacista e non solo, ma la segretaria amministrativa di una clinica che prende le connotazioni, eccetera. E' il santo principio per cui il farmacista, di fronte alla ricetta medica, deve fornire il medicinale, no, anche qui la coscienza si può infilare. Ecco, invece mi è molto piaciuto quello che ha detto Piazza sulla importanza di fondo del pensiero di Bonshu. Ecco, un po' era emersa questa cosa quando Bonshu, i filosofi del Seicennio dicevano che la coscienza non ospita principi di verità, ospita credenze. Poi credenze sono una cosa un po' più superficiale, un po' più ottimistica rispetto al pensiero inconscio. Ma diciamo che siamo da quella parte lì, ecco, e in fondo quelle che a noi sembrano le decisioni razionali, le alternative non presenti e spesso sono cose che vengono a cose fatte quando già le nostre decisioni sono state prese. Ecco, quell'idea che la coscienza se ha qualche contenuto ha scrupoli e sono autentici, ma spesso hanno scrupoli e i peggiori in quelli. A bugie! Io in coscienza sono assolutamente tranquillo. E' una cosa su cui si mette le mani, con le mani, con la coscienza nessuno la nega, qualche volta si confonde la coscienza con il portafoglio, ma fa niente, insomma. E' una coscienza su cui si mette le mani. Nessuno può scandagliare le coscienze, è vero, ma non è detto che si trovi nelle cose edificate, scandagliando la coscienza, scandagliando la coscienza. Ecco, la coscienza comincia allora a sottrarsi ai tentativi di utilizzazione e di definizione. Insomma, mi è piaciuto costruire, quando sono stato capace, una storia di incidenti e di malintesi. Grazie.